Un incidente nella mattinata di mercoledì 2 ottobre, poco prima delle 9, sulla strada provinciale 58 in frazione Spinetto di Castellamonte. Una lanciamusa condotta da una donna è uscita di strada, adagiandosi su un fianco nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, i carabinieri e l'elicottero dei vigili del fuoco, Drago, poi rientrato perché non necessario. La donna ha riportato ferite lievi e dopo le cure del 118 è stato trasportato all'ospedale di Cornier per controlli. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie!